Per noi è molto importante, importante per, diciamo, la palla ovale, gli sport della palla ovale qui a Terni. Diciamo da quest'anno che speriamo riusciremo a portare avanti nel migliore dei modi, da qui a seguire. Andrea è uno dei nostri soci. Manuela Beltrani che è la presidente del Panathlon. Beh, diciamo ci sono stati vicini da... Grazie. Due parole? No. No, la serata è vostra e quindi avanti. Grazie, grazie mille di tutto. Ci rivediamo più avanti questa festa, speriamo di rinnovarla il prossimo anno, speriamo di essere... Se tu paghi ti dico quando c'è no. Ecco il Dussano, lo esercizio. Allora non ne ho manco uno. Sì. Arriba questa fase. Oh my god. 3, 2, 1... No! Sì, do it.